Roma, HGK Helsinki, termina 3 a 0. Roma riesce a fare veramente grandi cose, schierando un trista di gol davvero epico, azzardo a dire in una partita, quella di ieri di Europa League, da Itoni brillanti. I tre gol sono stati fatti, bar realizzati da parte di Paolo Di Bara al 47esimo minuto di gioco, poi Lorenzo Pellegrini, due minuti dopo, quindi al 49esimo, e infine l'ultimo gol nel secolo tempo, a firma di Andrea Belotti al 68esimo minuto di gioco. Una bella partita, Roma trova la forma smaiante, non arriva neanche un espulso, neanche un cartellino rosso per quanto riguarda la Roma. Cartellino rosso invece quindi espulsione all'HGK nel primo tempo, al 14esimo infatti viene espulso il mio TENIO, TENPO, TEN, H1, bene. Per la partita la Roma apporda in escena un bel gioco, una partita troppo importante, azzardo a dire, dai toni piuttosto piacevoli dove la Roma va a vincere bene, vincere facile. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi al canale, andate a vedere alcuni commentari, ciao a tutti.